La cinta assegnata intorno all'angolo, entro la quale c'era dato di potersi muovere, concedì appena una mezz'ora di corsa a cavallo. Lucchi spingeva l'imperatore per allegare lo spazio, guardanare il tempo, a scendere nel fondo dei buroni attraverso pesimi e spesso pericolosi sentieri. L'isola aveva solo trenta miglia di cercoferenza. Sarebbe stato tese di rabbia che la cerchia fosse stata portata fino ad un milio dalle rive del mare. Allora avrebbe potuto passeggiare e variare le corse sopra un spazio dalla quindici alla diciotto miglia. La vicinanza non sarebbe per questo più difficile o meno efficace, perché bastava disporre le scolte sulle spiagge del mare e sull'ingresso della valle rilevando telegraficamente tutte le mosse dell'imperatore. E' vero che Raci è stato detto che Gagli poteva al suo meno placido percorrere tutta l'isola perché si facesse accompagnare da un ufficiale inglese ma l'imperatore era fermo di non uscire avanti. Se durante la sua passeggiata non avessi potuto andare di solo o avessi dovuto privarsi dell'intima confidenza di suoi, l'almeralio, nell'ottimo suo colloquio con l'imperatore, aveva con esquisita, delicatezza, stabilito e promesso che quando egli volesse uscire dai prescritti limiti, ne darebbe avviso al capitano inglese di servizio all'anguino che questi regravesse al posto per esciudirgli il passaggio e che, in appresso con la poca sorveglianza, se mai ne esisteva, sarebbe si fatto in modo che l'imperatore, nel caso della sua escursione, sia che entrasse in qualche casa, sia che approfittasse di qualche bel sito per lavorare, non vedrebbe che potesse distrarlo dalla sua tranquilla meditazione. Dietro, è convenuto l'imperatore, aveva in animo di salire. Stamani a cavallo alle sette ore, egli aveva fatto approntare una piccola collezione e disegnava di ricarsi seguendo le direzioni di Sandy Bay in cerca di una sorgente d'acqua e di profittare di qualche sito delle belle vegetazioni dove apriva l'anguino per passarvi il mattino all'offerarvi alcune ore. I nostri cavalli erano già pronti al momento di montare, essendomi recato ad avvertire il capitano inglese. Rilevai con mia grande sorpresa come egli intendersi unirsi con noi dicendo non doveva gli spiaceri che un ufficiale inglese gli servissi da domestico, restandosi al di dietro della committiva. Io risposi che l'imperatore approverebbe senza dubbio il suo pensiero, ma che rinunzierebbe sull'istante alla divisata partita. Voi dovete trovare cose naturali, senza trovare bene l'offerso, soggiunti io la ripugnanza che si sente alla presenza di colui che è nostro guardiano. L'ufficiale mostrava il 16.000 dolentissimo e mi protestava che le sue condizioni erano delle più difficili. Ciò non più essere, replicai dal momento che seguiti gli ordini altrui. Noi non vi chiediamo nulla, né voi ci dovete alcune giustificazioni. Sarevi solo nel comuni interessi che i limiti del nostro soggiorno fossero smitti. Se non arrivi, vedi il mare in questo modo saresti, liberato da un servizio molesto e indegno di un soldato. Lo scopo a cui si mira non sarebbe perciò conseguito da non essere, e sì affermare che lo sarebbe meglio a sé. Quando si può costruire qualche dono, bisogna infine scelare bene la soglia della sua stanza e quella del suo carcere. Le uscite intermedie non hanno più importanza. E il costruire li sarebbe, fanno fatica e tempo perduto. Voi perdete da vissi l'imperatore tutti i giorni, quando Wegli ti scende nei poroni della sua cerchia. Non sapete che esiste se non quando ritornano. Ebbene, fatevi un merito di queste concessioni che è volute dalla condizione del sito, e stendetela, se non ad un miglio della spiaggia, poiché potete ugualmente osservare i suoi passi col mezzo di segnali collocati sull'autore che stanno in vostro potere. Ma l'ufficiale non cessava da ripetere che non chiedeva né sguardi né parole dell'imperatore, e che la sua presenza sarebbe come non fosse con noi. Egli non poteva comprenderli, non comprendeva i fatti, come la sola sua vista potesse riuscire in molestare l'imperatore. Gliogli fece osservare che il suo modo di sentire aveva un regolo proprio, e che lo stesso regolo non valeva per tutti. Egli supponeva che noi interpretassimo al nostro modo il pensare e il sentire dell'imperatore, dicendo che egli cederebbe di buon grado, ovvi che gli fossero chiariti la ragione da lui data, per la qual cosa era quasi tentato di scrivergli. Io lo insicurai che ben lunghi da nessun dei motivi adotti all'imperatore mio, adotterei di farli valere con più calorie che non potrebbe fare egli stesso, al quale effetto mi ricava sui istanti a riferirgli parola per parola le nostre conversazioni, se non che poco istante ritornai, confermando quanto ci aveva preveduto. L'imperatore rinunziò e soffatto al suo progetto di scorsione.